Amici di Unibat Italia torna la Champions League con una Roma sicuramente in fiducia grazie a Luciano Spalletti quattro vittorie consecutive una striscia di risultati importante visto il punto di partenza con Spalletti si può sperare non credo si possa sognare un pronostico abbastanza chiuso quello che vede impegnata la squadra giallorossa l'andata degli ottavi di finale di Champions League dopo la vittoria di Modena contro Real Madrid degli alieni dell'attacco straordinario che con Zidane viaggia a ritmo di quasi 5 gol a partita servirà una prova difensiva maiuscola come si diceva una volta da parte dei difensori giallorossi però si tenterà certamente ha aumentato l'ottimismo il banco di prova è molto molto severo però è una Roma che sarà chiamata a superarsi in uno stadio che tornerà a riempirsi per questa occasione, questo appuntamento di gala non si fanno voli pindarici perché l'ultima volta finì davvero molto male con il Barcellona e prima ancora col Bayern Monaco però è una squadra più consapevole che proverà a rendere difficile la vita di questa che è una tra le favorite alla vittoria finale squadra di Cristiano Ronaldo e compagni pronostico azzardiamo un gol e un over ecco per fare poi i democristiani calcisticamente parlando in attesa della sfida di domani sera quindi un 2 a 2 o comunque possiamo parlare di un risultato con gol da parte di entrambe le squadre perché? perché la Roma ha la possibilità comunque di far male a una difesa non impenetrabile e ovviamente dovrà sperare in un miracolo come ha detto nell'intervista a Marca Nainggolan il miracolo qual è? quello che vede insomma gli attaccanti Cristiano Ronaldo in testa in giornata magari in serata non proprio esaltante se non succederà una delle due cose ossia Roma al massimo e attaccanti non proprio ispirati la vediamo molto dura ma come è normale che sia Real Madrid come detto può vincere questa Champions League anche con Zidane dopo l'addio di Benitez un saluto a tutti voi e un ringraziamento da Dario Bersani